Allora, sono qui con Google Fogli e sto dando i voti sulla simulazione dove è divisa in tre parti dimensionamento, disegno e ciclo e poi ci sarà poi il voto, la somma dei tre, la media dei tre. Il problema è che per dare il voto ho messo dove vedete giallo, qua il commento, manca trattamento termico, manca tabellina e così via, per ricordarmi in modo preciso, dovrei farlo su tutti, ma alcuni mi sono dimenticato. Il problema è che qua l'ho fatto, però non si vede il commento, se io vado qui caspita sembra che non ci sia, di fatto ho detto ma come mai mi è sparito? Ok, di fatto dopo uno si chiede ma è meglio mettere, non ho capito, commento o nota e quello dovrò anche indagare, però a questo punto quando il commento io non lo vedo, sono sicuro che c'era. Qui c'è questo numerino, visualizza tutti i commenti, cliccando qui io visualizzo tutti i commenti perché c'è, e qua c'è aperti, per te risolti, dunque tutti sono sia quelli aperti e risolti, difatti io purtroppo sono andato a risolvere uno, questo qui, ed ho sbagliato e dunque perché voglio vederli, no? A questo punto per togliere il risorto vado qui e faccio riapri, ok? A questo punto c'è il giallo e dunque semplicemente come andare a riaprire un commento, ok? E niente va semplicemente dunque vado qua sui commenti e visualizza tutti i commenti e vado poi a questo punto in quelli risolti, questo sotto i aperti e in quelli risolti e a questo punto tolgo la risoluzione, ok? In modo da vedere questo trattino giallo perché sennò ipoteticamente non lo vedo, non lo sapevo, dunque comunque ce ne sono 9 e qui io ho 3, 3, 6 e 3, 9, sono giusti, ok? E di fatti quello non risolto, vabbè quello risolto era il nono, vabbè spero di essere stato utile, dunque come andare a visualizzare i commenti e come andare poi a risolvere, vabbè spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci!